Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle Quando uscì questa edizione in Giappone esattamente dieci anni fa Io vi giuro che mi sono mangiato le mani per non averla comprata e non averla portata a casa Vi giuro, io sono dieci anni che mi mangio le mani Dieci Ma c'è anche le bande Prima di cominciare, lo sapete benissimo Andate qua sotto, vi iscrivete, mi date una mano a far crescere questo canale Attivate la campanellina, così quando faccio uscire un video non dovete andare a cercarlo Vi arriva la notifica sul cellulare e siete tutti a posto Poi, se volete darmi una mano e volete far sì che questo canale cresca Sta tutto in voi, pochi piccoli gesti Quei pochi piccoli gesti sono un pollicione verso l'alto Che non è un gradimento di questi video e del mio canale Fondamentalmente è un'interazione che serve a questo canale e ai video di questo canale Per muoversi, per navigare all'interno dell'algoritmo Per far vedere che sono graditi Un commento uguale Il gradimento serve anche e passa anche per questo tipo di interazioni, per questo tipo di lavoro, di commenti E la condivisione Vi piace il mio prodotto? Condividetelo Basta poco Se poi volete andare a uno step successivo per quanto riguarda il sostegno a questo canale Beh, c'è sempre l'abbonamento, i super grazie e quello che volete voi E come sempre ragazzi, grazie mille per il sostegno Allora Quando uscì dieci anni fa L'edizione La Kyukyokoban Oppure edizione extreme In Giappone, io vi giuro, mi sono letteralmente mangiato le mani Perché era un'edizione magnifica Un'edizione decisamente sfarzosa Tecnicamente sfarzosa Una deluxe di un altro altissimo livello Quando uscì? È uscita nel 2014 E Okutonoken, Oken il guerriero che dir si voglia Ma, essendo uscita in Giappone La chiamiamo col suo nome, cioè Okutonoken Quell'edizione era L'edizione del compleanno Dell'anniversario Del trentennale Di Okutonoken Ed era un'edizione Magnifica Perché aveva Le tavole in bianco e nero Le tavole a colori Le tavole in tricromia Quindi Bianco, nero Con dei grigi Con delle scale di rosso Con delle scale di ocra Viola Quindi C'era sia la tricromia Che i colori in alcuni casi Delle copertine Tutte nuove Tra l'altro Questa fatta decisamente bene Ma Non tocca minimamente Il livello qualitativo Che aveva Quella copertina Quella copertina Perché Intanto Tutte le cover Molto minimal Con un disegno Nuovo Creato Ad hoc Proprio Dagli autori Quindi in questo caso Da Tetsuohara Ok Con Era leggermente In rilievo Qua la parte Sono in rilievo È il È la Octo Quindi L'orsa maggiore Però Però Quest'edizione Aveva delle copertine Molto più Molto più grosse Con Fatte di Una carta Più spessa Che era Più porosa Cioè Dava L'intenzione L'idea Quasi Di andare A toccare Una carta Di livello Alto Sembrava Quasi Un tessuto Da Come Era fatta Perché Comunque Era una Carta Più Porosa Era una Carta Più alta Era una Carta Più Granulosa Quindi Dava Proprio Un'impressione Come se Fosse La copertina Di un Manoscritto Pur Mantenendo Questa tipologia Minimal Quindi Il disegno Il bianco La scritta Hokuto no Ken E buona lì Con Tra l'altro Se si toglieva La copertina C'era Esattamente La parte dietro In oro Con scritto Hokuto no Ken E test di Buronson E manga Di Tetsuara Che dire Questa è un'edizione Che quando è uscita In Giappone E' stata Un tripudio Erano 18 volumi Tutti da 300 pagine Con Una carta In formato B6 Quindi il 13x18 Tra l'altro Uscito Per Tokuma Shoten Quindi La casa editrice Che Pubblicava All'epoca Sia Okuto no Ken Che L'altra Soten no Ken Cioè Ken le origini del mito Attraverso La testata Zenon Comics Le fecero uscire Entrambi In questa edizione Deluxe E mi auguro Che facciano uscire Anche in italiano Entrambe In edizione Deluxe Che erano Un volume E mezzo Circa Perché erano Tutti volumi Da 300 pagine Okuto no Ken Erano 18 volumi Da 300 pagine Soten no Ken Quindi Che è le origini del mito Erano 14 volumi Sempre Da 300 pagine La cosa bella Di questa Extreme edition Però Era nel volume 11 Il volume 11 Aveva Esattamente Un capitolo Di circa 90 pagine Di Materiale Inedito Cioè Era Un capitolo Se non mi sbaglio Un paio di capitoli Aggiunti Proprio In quel volume Lì Che faceva Dar accordo Tra tutta La prima parte Di okuto no Ken E tutta La seconda parte Quindi la parte Nell'isola Dei demoni E Quindi dopo La sconfitta Di Rao E la parte Nell'isola Dei demoni E veniva Raccontato Quella che era Veniva raccontata Quella che era La vita Di Ken Ormai Dopo aver Trovato Comunque La pace Con La salvezza Di Yuria E con Ken Che andava in giro Sul dorso Di Renero Magnifico E non vedo l'ora Di vedere Di avere In mano Il volume 11 Di questa edizione Proprio per Poterlo Rileggere Rivedere Anche in italiano Perché ci dè Di un'occhiata Quando ero là In giapponese Ed era Qualcosa Di Meraviglioso Meraviglioso Ma com'è Questa edizione Italiana Perché L'edizione Italiana Quando È uscita Vado a cercare Un'informazione Che mi ha dato Il buon Alessandro Falciatore Quando è uscita L'edizione Italiana O meglio Quando è stata Annunciata L'edizione Italiana Diciamo Che c'è stato Un problemone Grande Come una Casa Cioè Cioè Tutti quanti Si sono Mossi Subito Dicendo No raga Faranno Sicuramente Un'edizione Di merda Proprio Come è stata L'edizione Uscita Dieci anni Fa Cioè Quando In Italia Quando in Giappone Usciva Questa In Italia Hanno deciso Di pubblicare Quell'edizione Low cost Ma Era veramente Una roba Imbarazzante Copertine Brutte I volumi Con una Rilegatura Che a momenti Ti si apriva in mano Le traduzioni Erano una cosa Aghiacciante Brutti E Brutto Scritto Male Con della roba Che non stava Né in cielo Né in terra Cioè Un prodotto Qualitativamente Pessimo E infatti Tanti influencer Tanta gente Nel momento in cui È stata annunciata Quest'Extreme Edition Sono rimasti Particolarmente Terrorizzati All'idea Di trovarsi davanti Una Edizione Zuppicante Barcollante Non degna Non degna Di un quarantennale Di una colonna Portante Del manga Degli anni Ottanta E di tutto Quello che è Il manga Ok Bene E allora Com'è questa edizione? Allora Intanto Io direi di partire Dal fondo Partendo dal fondo Noi abbiamo Vado a vedere Proprio i testi Finali Quindi Chi lo ha curato Traduzione Di Gianluca Bevere E va bene Nessun problema Lettering Di Miriam Est Barrossi E Massimo Stella Ok Edizione italiana Cura di Mattia Dal Corno E va bene Ed Enrico Croce Quando mi sono visto A cura di Mattia Dal Corno E va bene Perché è uno dei curatori E Più importanti Delle testate Soprattutto Shonen Di Panini Ma mi sono trovato davanti Questo Enrico Croce E parlando Proprio con Alessandro Falciatore Di Anime Click Sono venuto a scoprire Chi è Questo Matteo Croce Matteo Croce Non è Altro che Un grandissimo 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 Appassionato Di Oktono Ken Che Come io Ero E sono Grandissimo appassionato Di One Piece E ciò Insieme a tanti Altre radici Mi ha portato A studiare il giapponese A conoscere la cultura Giapponese Lui Ha Studiato La cultura E la lingua giapponese E' andato In Giappone E lavora Per Coamix Chi è Coamix Coamix E' la casa Editrice Creata Proprio Da Tetsuo Ara E dall'editor Proprio Di Ken Il Guerriero E che cura Proprio Quello che sono I lavori Del maestro Ara Assieme a Tutto il gruppo Che Lo circonda Vi ho già Parlato Del gruppo Legato A Coamix Proprio Nel video In cui Vi parlavo Del Di Kenil Guerriero Della storia Editoriale Di Kenil Guerriero Quindi Se non Lo avete visto Mi metterò Il link Qua sopra Per andare A vedere La storia Editoriale Proprio Di Kenil Guerriero In Giappone E quindi Già da lì Se andate a vedere Poi la sua pagina Instagram Ci sono tutte Le spiegazioni Abbiamo la certezza Di avere Una persona Appassionata Una persona Che ama Questo prodotto A fare La curatela Proprio Di questo prodotto Stesso Quindi La curatela Della Traduzione La cura Dei dettagli Su alcuni termini Su alcuni testi Su alcuni momenti E Importanti Proprio Dell'opera Quindi Ragazzi Sembra assurdo Soprattutto Per Panini Ma ci troviamo Davanti a un'edizione Curata Al minimo Dettaglio Sul lato Dei testi Cioè Io Che di solito Spallo merda Sul lavoro Fatto Male Sulle traduzioni Sugli adattamenti Raga Ma ci hanno lavorato Con L'attenzione Con il rispetto Che Okutono Ken Merita È assurdo Perché è assurdo Doversi stupire Di una casa editrice Che porta rispetto Di un'opera E dei suoi lettori Però è così Però è così E com'è Questa edizione Intanto Come vedete C'è una bella carta morbida Ci sono delle irrigature morbide Comunque Abbiamo Un bel volume Che si apre bene Con Tavole in bianco e nero Tavole in tricromia Che adesso vi vado a recuperare Perché sono soprattutto Nei capitoli Iniziali Ce ne sono un paio Anche nei capitoli centrali Ma per esempio Ci sono le tavole in tricromia Come questa Con bianco e nero E rosso Con Delle Con della carta Che banalmente Non è neanche troppo trasparente Ha una grammatura Importante Bisogna proprio trovare Una pagina bianca Come questa Per Vedere Un po' In trasparenza Sotto Vedete che qua si vede un volto Ok Ma proprio Ma bisogna proprio Avere Cioè dire vabbè Vado a cercare il pelo nell'uovo Cioè la pagina bianca Per vedere In trasparenza Se va bene Qualcosa di là Quindi Io devo dire che sono Letteralmente Stupito Stupito Se amate Kenny il guerriero E non avete avuto modo Di leggerlo O Se amate Kenny il guerriero E avete avuto modo Di leggere Quella edizione Orribile Imbarazzante Scandalosa Che uscì Esattamente Dieci anni fa Proprio Made in panini Ragazzi Qua Potete Stare Tranquilli Perché è un'edizione Rispettosa È un'edizione Che non farà Incazzare il pubblico È un A meno che non facciano Delle cagate Durante l'edizione Tipo Fogli che si staccano E pagine mancanti O cose del genere Ma quelli Sono errori Di lavorazione Che possono capitare Ma è un prodotto Curato Curato Dove c'è stato L'interesse E la volontà Di Curare Il lettore Non posso che ringraziare Chiunque Vi ringrazio Grazie per aver fatto Un'edizione Di questo genere Di cui io Che spendo 7,50 euro A volume Non mi Incazzi Ogni volta Che tiri fuori 7,50 euro Sono contento Di tirarli fuori Perché Ho davanti Un'opera Della madonna Storica Curata bene Curata bene Nelle traduzioni Curata bene Negli adattamenti Curata Magnificamente In quello che sono Le tecniche In quello che sono Tutte le parti Legate Alla Storia E Al background Narrativo Di Okuto Nanto E delle altre Scuole Ragazzi Se non l'avete comprato Compratevelo E leggetelo Perché Kenil Guerriero Non è mai stato Così fatto bene Mai 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 Ok Fatelo 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 Detto questo Ragazzi Io vi saluto E ci vediamo Nei prossimi giorni Anche perché c'è ancora Il famoso video Su Deadpool Quindi Stasettimana ho avuto Qualche problema Perché Di tempismo Perché Tra una fiera Di paese Che mi ha portato A dormire Due ore Una notte E altre Quattro Un'altra notte E così via Ecco E che mi ha portato via Intere giornate Di lavoro Proprio di lavoro Distruttivo E quindi mi ha portato A ritardare Un po' Le tempistiche Dei video Però ragazzi Ci sono E li farò uscire Tutti Questa settimana Quindi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Detto questo Vi saluto Grazie Per aver visto Questo video Grazie del sostegno E noi ci vediamo Nei prossimi giorni Ciao Belli Aspettavo Questa edizione Esattamente Da dieci Lunghissimi Maledettissimi Anni E non è detto Che poi io Non vada a recuperare L'edizione Giapponese Perché quella Era un'edizione Che volevo Assolutamente In libreria E purtroppo Non ho portato A casa E mi mangio Ancora Le mani Ma le mani Mamma mia Che edizione Bella anche L'edizione italiana Come è fatta bene Oh Come è bello Una volta Ogni tanto Parlare bene Di Panini E di non parlare Male Di loro Parlare bene Come di un gruppo Che cura Il pubblico Grazie Panini Grazie Grazie